Sardegna, c'è che c'è voce, è troppo bello, quindi mi possono anche fare i complimenti, dai, grazie, grazie a tutti. Oh Cinco, adesso abbiamo anche il nostro diver che è anche un bravissimo cantante, che è guardabile, ha detto che c'è la sala proprio qua a Macomere, per cui noi siamo lì. Non riesco a guardarlo, io sono girato di così, dai, sicuramente non ha avuto un abbassamento di voce per troppa aria condizionata. Inizio io? Inizio a tu, inizio a tu. Adesso, no, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, devi fare il saluto, portate in silenzio. Intanto ringraziamo i ragazzi che lavorano con noi, Gigi, Lorenzo, Giacomo, Raffaele, Gustavo, Lorenzo torna, torna sempre. Grazie, grazie a Brian, a Davide, ragazzi, non conosco i nomi, le facce le conosco, sono un po' facce da gallina. Non c'è qualcuno, però, grazie, 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 grazie. Ragazzi, alla prossima, noi si torna a Pazzano, signore, signore, signorina. Si fa per dire, no? Sergio Le Gioia, come si chiamano? Susente. Susente? Non fare lo stupido, lo sai come me chiami. Giuseppe Mele. Giuseppe. E te, bambino, come ti chiami? Massimo Echi, Gico Marzone. Sergio Ferretto, dai, ti ho detto, ma che non ti ricordo un po' di me. E giuricilloni? Benvene, Gioia. E' vero che suona la batteria. Mimmo Impasticciato. Il signor Peppe Carretti, a gusto d'olio e tante belle grazie. Siamo tutti, ragazzi, grazie ancora. Andate piano, alla prossima. Grazie. Io, un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. Poi, una notte di settembre, mi svegliai, il vento sulla pelle. Sui mio corpo e il chiarore delle stelle. Grazie. 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 Bye. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.